Due ore prima della vio del Mecce a Sant'Agostino, la situazione è quella che riporta alla memoria una poesia di Carducci trasformata in canzone da Fiorello negli anni 90. I portieri iniziano a scaldarsi, i riflettori si accendono fin da subito e con un giro panoramico vediamo la situazione del campo. Si gioca o non si gioca, alla fine si giocherà. A rallegare la situazione in un pomeriggio freddo con tanto di nebbia agli articolli ci pensano loro a mostrare l'orgoglio riminese. In postazione centrale si osserva, gli ultras di casa intanto iniziano a farsi sentire alla loro maniera. I protagonisti scendono in campo ma non c'è pure il tempo di porre rimedio al freddo che dopo 19 minuti di lancette in cui prevale la fitta nebbia, Merighi approfitta di una respinta corta sorprendendo con la traiettoria velenosa l'incerto Mignani che nell'occasione sostituiva l'infortunato Scotti. 1-0 e palla al centro ma far festa ovviamente sono soltanto loro. Quando anche Ricchiuti inventa ed innesca Buonaventura così si comprende che il pomeriggio è di quegli oscuri. Si alza al cielo la poesia di Giorsoia Carducci come si alza la punizione di Lazzetta. I padroni di casa ci tengono a fare bella figura. Il bandierone bianco-rosso posto davanti a noi ostacola sì la nostra visuale ma non certo quella del direttore di gara che sul retropassaggio all'indietro vede Mignani raccogliere il pallone con i guantoni. In punizione a due batte Giorola che giura nel frattempo di non avere abbastanza distanza e l'arbitro lo accontenta. Fa ribattere la punizione che si infrange contro la barriera bianco-rossa con la retroguardia ospite che poi in qualche modo sbroglia la situazione. Intanto gli ultras di casa in merito ai fatti di Novara fanno sapere la loro agli amici ultras bianco-russi che non possono che applaudire che ci sia un corso e un gemellaggio si chiedono alla tribuna mentre in campo Ricchiuti viene chiuso sul più bello dalla tempestiva uscita di Moretti che di gemellaggio proprio non vuol sentirne parlare. E mentre il primo tempo sta per concludersi, ennesimo fallo commesso da Rimini in zona bandierone, pardon, dal limite dell'aria. Batte Giorola che per la terza volta in un match centra la barriera. Squadra a riposo con la nebbia che continua a scendere impedendo la visuale. Siamo al limite e in effetti a inizio ripresa Mignani dimostra di non vederci proprio nulla quando in un no contraversione viene bloccato con qualche affano di troppo in due tempi. Stessa cosa di Casipercola che sorprende anche noi quando nel tentativo di anticipare l'avversario rischia di sbagliare porta. Rimini non ha idee, non ha gioco e dimostra la propria frustrazione su questa ripartenza del Sant'Agostino, bloccata così dalla retroguardia ospite. Gli ultras provano a scaldarsi, c'è chi accende il fuoco e chi la candela. Ma intanto il presidente Lenzi precisa l'identità del Sant'Agostino, benedicendo tale giornata. Quello che dico io gli attributi che ha il ramaro, dico ramaro perché essendo noi i ramari dico il ramaro è una lucerta con gli attributi. Oggi abbiamo fatto una prestazione molto molto buona, anche perché vorrei citare l'educazione fra le due tifoserie. Non c'è stato nulla di offensivo, hanno tutti cantato e è stata veramente una bella giornata di calcio. Un po' meno forse per i Rimini, ma fa parte del gioco. Prima vero caccia da gol all'83esimo, Richiuti dialoga con Cicare, invece tira a giro e Moretti devia in corner. Abdul intanto esordisce il campionato con la nuova maglia e a domanda precisa perché Sommeldola avesse pareggiato con i Rimini, lui rispose dicendo che gli avversari avevano preso sotto gamba l'avversario. Quale miglior dimostrazione se non questa? La gara prosegue, Buonaventura controlla per Cicare, invece che colpisce malamente la sfera. L'attaccante ex San Marino si ripete qualche minuto dopo facendo infuriare alcuni tifosi bianco-rossi, mentre altri sulle tribuni in tempo di regali e in clima natalizio intornano quanto segue. L'inizio di Richiuti provvidenzia il suo secondo palo la chiusura di Ambrosini, bravissimo nel anticipare Brighi, pronto a ribadire di testa il pallone. Ancora una volta Richiuti si accentra per le tanti in area di rigore prima di essere stoppato malamente, ma il direttore di gara lascia proseguire anche se qualcuno rimane a terra. Termina qui una gara brutta, bruttissima per essere vera, luminosità o meno, l'unica a trionfare il Sant'Agostino e in tema di Santi nasce la vena poetica del Giuseppe Carducci bianco-rosso e sotto il maestrale, chiamato Sant'Agostino, urlano e festeggiano soltanto l'oro.